Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è giovedì 30 marzo 2023, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, una rassegna stampa che vede soprattutto in evidenza sulle pagine nazionali i problemi causati dalla possibilità di accedere al PNRR per quanto riguarda progetti che sono rimasti al palo e poi anche la malattia che ha colto Papa Francesco che è stato ricoverato in ospedale, questo per quanto riguarda le pagine nazionali, ma noi accentriamo come sempre l'attenzione sulle pagine locali per quanto riguarda il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, passando però attraverso l'almanacco del giorno. Ecco, vediamo chi si festeggia oggi. Oggi si festeggia il Beato Ammedeo IX di Savoia. Abbiamo visto nei giorni scorsi come santi possono essere benissimo anche re, principi, nobili uomini, nobili donne, uomini e donne che avrebbero potuto condurre una vita molto lussuosa, molto agiata e invece si sono votati alla umiltà, alla povertà, quella evangelica. Ebbene, il Beato Ammedeo IX di Savoia era uno di questi. Era figlio del Duca Ludovico di Savoia e Anna di Lusignano. Soffriva però di epilessia, un male che lui sopportò e di cui aveva coscienza per tutta la vita. Sposò Iolanda, la figlia di re Carlo VII, re di Francia. Quindi vedete, insomma, l'alto lignaggio che caratterizzava la vita di questo santo. Ebbene, protesse i poveri e governò con saggezza il suo territorio. Il suo territorio che gli fu assegnato era un po' il territorio di Brescia e quello del Piemonte. Il Piemonte che poi fu veramente il territorio tipico della casata dei Savoia, fino a diventare un regno esso stesso. Questo è il Beato Ammedeo IX di Savoia. E vediamo ora le previsioni del tempo. Vediamo la grafica sulle marche. Vediamo che il tempo si mantiene solleggiato. Ci sono però delle nubi. Transitano nubi alte e stratificate, a tratti anche compatte. I venti sono moderati da meridione. Le temperature massime sono in ascesa dai 13-14 gradi dell'altro ieri. Ora saliamo fino a 20 gradi per quanto riguarda la massima e 10 gradi per quanto riguarda la minima. Le temperature dunque sono in ascesa. Il mare è leggermente mosso. Il vento non è molto teso come nell'ultimo weekend. Ora apriamo i giornali e vediamo subito l'apertura che oggi presenta il resto del Carlino. 1000 euro per un affitto a Rosciano. Trovare una casa è un'odissea. Si è sempre detto che Fano è una delle città in cui vige l'emergenza abitativa. C'è difficoltà a trovare anche un appartamento in affitto. Ce ne sono molti disponibili, però insomma la gente non li affitta, non si fida per poi un regolare rapporto con l'inquilino. Alloggi introvabili e prezzi schizzano. La testimonianza di Giannini. Giuseppe Giannini è un elettrotecnico specializzato con un contratto a tempo indeterminato. Perché diciamo un contratto a tempo indeterminato? Perché questa persona può offrire tutte le garanzie per un regolare pagamento del canone di affitto. Ma anche lui trova difficoltà a trovare un appartamento. Pensate che magari nella zona di Rosciano, lo evidenzia proprio oggi il resto del Carlino, non si trova un affitto inferiore a 1000 euro. Insomma, è una cifra importante. 1000 euro per un affitto a Rosciano. Trovare una casa è un'odissea. Alloggi introvabili e prezzi schizzano, abbiamo detto. La testimonianza di Giannini. Lui ha la possibilità di offrire le migliori garanzie che un inquilino può dare al proprietario dell'abitazione. Ma a Fano non sembrano sufficienti per affittare un appartamento. Ci sono appartamenti estivi che vengono ceduti per 500 euro a settimana, pensate, e poi solo per il periodo estivo. Per l'inverno non se ne parla, non se ne parla. E poi ci sono anche problemi per quanto riguarda le certificazioni delle fonti energetiche, le situazioni ambientali di un appartamento, quelle certificazioni che occorrono per legge quando si affitta un locale. Ma a proposito di questo problema, voglio segnalarvi anche quanto scrive oggi il Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro. E vediamo che proprio l'articolo di apertura della pagina pesarese parla di affitti. La vacanza si gusta in casa, addio hotel, meglio l'affitto. Cioè i turisti che vengono nel nostro territorio preferiscono affittare un appartamento, anche se veramente un appartamento costa in modo particolare. Cresce la domanda di locazioni. Richieste arrivate già a gennaio per la prossima estate. In alta stagione per sette giorni 800 euro. È quello che costa un appartamento, pensate, solo per sette giorni. Le zone più gettonate sono quelle di Viale Trieste, la zona Porto e Baia Flaminia. La media delle richieste riguarda appartamenti di oltre 100 metri quadri con un minimo di tre camere. E secondo i dati dello IAT, dell'Ufficio Turistico Regionale, l'Ufficio Informazioni Turistiche, Sono circa 200 gli appartamenti censiti come casa vacanze disponibili per tutta la stagione. Provenienza dei turisti. I turisti che scelgono la soluzione degli affitti estivi, piuttosto che gli alberghi, in larga parte provengono dalla Emilia Romagna e dalla Lombardia. Sono questi, insomma, i turisti che esigono appartamenti più che andare in albergo, anche se in albergo avrebbero un servizio più completo. Insomma, negli appartamenti poi devono sbrigarsela da soli per quanto riguarda colazioni, pasti e via dicendo. Però c'è il rovescio della medaglia. Il lavoro stagionale. Il lavoro stagionale per la stagione turistica, un lavoro che si svolge in alcuni mesi, poi termina, e non sempre il resoconto, l'utile è sufficiente per mandare avanti una situazione. Studenti del Santa Marta alla prova, ristorazione e turismo in crisi. Regole per il lavoro stagionale. C'è un incontro tra le imprese e i talenti per cercare di trovare un accordo. Un accordo che, insomma, non è molto facile. Ed ora continuiamo invece nel nostro esame sulla pagina del resto del Carlino. E vediamo che si parla di una bella ragazza, devo dire. Si tratta di Francesca Marchegiani, 24 anni, e di Fano. Ebbene, Francesca Marchegiani rappresenta la cosiddetta Generazione Z e partecipa ad una seguitissima trasmissione televisiva. Il programma di Pierluigi Diaco. Si tratta di un programma bella, ma un sogno nato per caso. Questo, insomma, è un po' il titolo, l'argomento della trasmissione che viene trasmessa sulla Rai. Ha quasi 86 mila followers. Studia media, comunicazione e digitale. Il giornalismo ha la sapienza di Roma. Ed è veramente una fanese doc. Francesca Marchegiani, una delle concorrenti del programma Rai, bella ma condotta appunto dal giornalista Pierluigi Diaco. Ebbene, si mette a confronto con un interlocutore di una generazione più anziana. Si sceglie un tema particolare, i due si confrontano e si mettono in evidenza. E qui abbiamo l'intervista a Francesca. E poi ora passiamo invece a Mondolfo, dove il problema della guardia medica ritorna e si fa sentire. Sembrava risolto per un certo periodo. Ora invece ritorna l'assenza di questo importante servizio. La guardia medica c'è una volta su cinque. Nuova sforbiciata dei turni per il mese di aprile. Completamente scoperte le notti. Resta l'ospedale in questo caso. Ebbene, una nuova sforbiciata nella guardia medica di Mondolfo, che dopo un trimestre, gennaio-marzo 2023, in cui era stata operativa almeno nei weekend, col dottore sempre presente nei quattro turni complessivi tra diurni e notturni, nel mese di aprile funzionerà soltanto in cinque occasioni. Si tratta della fascia giornaliera dalle 8 alle 20, delle domeniche 2, 9, 16, 23 e 30. Considerando esclusivamente weekend, festivi e prefestivi, sarebbero scoperti ben sette turni. Ebbene, insomma, non è molto facile. Quando uno ha bisogno, in assenza del medico di base, di un'assistenza sanitaria, non avere una guardia medica vicina, in modo particolare appunto in questi centri dell'entroterra, lontani dagli ospedali di carattere provinciale, è veramente un problema di salute. E poi abbiamo una notizia di cronaca che riguarda Colli al Metauro, qui su un articolo di Spalla, fu trovato senza vita in casa a processo il pascher nigeriano. Per la difesa, il 53enne di Saltara potrebbe essersi suicidato. Si tratta di un nigeriano che viene accusato di avere venduto della droga a un suo cliente, un 53enne, che è caduto in imbagno nella propria abitazione a causa di un malore, la cui origine si fa appunto a scendere al consumo di droga. E lui sarebbe il pusher che ora viene processato. Ebbene, parliamo di Urbino e parliamo di Pasqua. Parliamo delle iniziative pasquali, iniziative che riguardano sia i residenti, ma soprattutto che attraggono anche i turisti, che poi Pasqua è sempre un'occasione di fare delle gite fuori porta. Caccia le uova, mercatini e visite Pasqua di sorprese nella città Ducale. Una città in fermento, dobbiamo dire, ci sia anche il grande mercatino di Batanai tra le mura, un mercatino tipico, tradizionale di Urbino, oltre alla visita di chiese, sinagogue aperte per i turisti. Accoglieremo, ha detto l'assessore Elisabetta Foschi, accoglieremo i bambini iniziando dal sabato pomeriggio con caccia alle uova. Tanti animatori saranno vestiti da uova di Pasqua e conigli, pensate un po' questa animazione, e le uova saranno nascoste tra i monumenti e nelle vetrine, e non solo, insomma, è una caccia al tesoro, molto dolce questa che si organizza ad Urbino. Poi lunedì 10 aprile, ugualmente, ci saranno attività. Il Club Iddu ha coinvolto l'Istituto Pascoli e l'Istituto Volponi, e i ragazzi hanno decorato delle uova che parteciperanno ad una gara dove una giuria di 10 persone e poi anche il popolo dei social voterà la più bella, quindi la più bella decorazione. Le guide turistiche si metteranno a disposizione per fare conoscere meglio il patrimonio cittadino, come spiega la presidente delle guide di Urbino della locale Confesercenti, Carla Rossi, e qui si parla del progetto. Ma poi, tra le attività che sono state calanderizzate per il periodo pasquale, ci sono i mercatini, appunto quello che vi ho accennato, batanai tra le mura, oltre alle chiese del centro, la sinagoga, aperte per urbinati e turisti, sia la Pasqua che il lunedì mattina, quindi chi vuole visitare Urbino, Pasqua è una bella occasione. Vediamo ora quello che accade ancora, sempre ad Urbino, mancano i medici nell'entroterra, più pazienti per quelli che restano, una delibera alza ai massimali dei professionisti che hanno dato la loro disponibilità, ecco chi sono. Ebbene, la mancanza dei medici viene sopperita, in questo caso, da un aumento di pazienti che si prende in carico i medici che restano in servizio. È un rimedio che, insomma, tampona una falla, almeno provvisoriamente, che si è creata nell'assistenza sanitaria. Con gli ultimi pensionamenti si sono ulteriormente assottigliate le file dei medici di medicina generale, quelli appunto i medici di famiglia. D'altro canto, non solo i pazienti sono rimasti sempre quelli, ma con l'età che avanza, i pazienti che sono la base di un medico aggravano le loro condizioni, perché con il progredire dell'età purtroppo nascono anche tante altre malattie e quindi c'è un impegno maggiore da parte dei sanitari. E in questo caso si è cercato appunto di sopperire alla mancanza, non è un grande rimedio, ma insomma, in qualche modo, questi medici sono messi a disposizione dei nuovi pazienti. E quindi questi non resteranno senza la possibilità di cure. Cantiano alvia lo spettacolo della turba. La turba di Cantiano è una delle più belle manifestazioni del periodo pasquale che si svolge nel nostro territorio, insieme alla processione del Cristo morto di Saltara. Un'azienda nata con la turba, la secolare sacra rappresentazione del Venerdì Santo, della quale ne cura il palinsesto audio-video da oltre 20 anni. Si tratta di una azienda, la Soundlight di Pesaro, che dà un tocco di suggestione all'atmosfera in cui si svolge la turba. Suoni, luci, un aspetto scenografico particolare che aiuta l'immedizzazione del pubblico nei confronti di questo spettacolo che è veramente molto suggestivo e toccante anche dal punto di vista spirituale, dobbiamo dirlo. Ed ora vediamo anche qualche notizia pesarese. Vediamo come nel periodo estivo anche sul resto del Carlino abbiamo dato un accenno prima all'inizio della nostra rassegna stampa per quanto riguarda il lavoro stagionale. Ebbene, l'altra estate qui si è riassunta la voce dei ragazzi e ragazzi che vengono anche sfruttati quando fanno i camerieri, quando fanno i cuochi, quando fanno le pulizie negli alberghi. Fino a 16 ore di lavoro al giorno la paga non superava i 600 euro. Sono alcune testimonianze che sono state raccolte. Qui l'arresto del Carlino fa un viaggio tra le aspettative dei giovani candidati al Talent Day organizzato dalla Confcommercio. molti avevano già avuto esperienze dobbiamo dire anche negative in questo settore non sempre appunto molto molto utili. Dicevano che era la gavetta ma insomma questa gavetta durava di anno in anno e non finiva mai e quindi insomma non era proprio una gavetta ma un sistema che doveva essere corretto. E vedete che cosa dicono gli imprenditori. Lo dicono qui in questo articolo la difesa degli imprenditori lo sfruttamento non è la regola ma quando capita denunciate. Lo dicono gli stessi imprenditori. Ci sono quelli che si comportano correttamente danno il giusto dovuto al personale che assumono e altri invece che lo sfruttano. Organizzatori e titolari uniti per sfattare la retorica dei titolari carnefici e dei dipendenti nulla facenti. E vediamo qui alcuni rappresentanti della Confcommercio che hanno organizzato questa iniziativa il Talent Day. La palestra ha una ditta urbinate assegnato a Pretelli l'appalto dell'impianto di Via Togliati. Un ribasso consistente sul progetto finanziato dal PNRR. Rimane a disposizione del Comune questo impianto. oltre un milione di euro senza tribune sarà una struttura dedicata solo agli allenamenti e quindi non ci saranno partite con il pubblico presente in questa struttura. Diamo un'occhiata ora anche a questo problema a questo articolo di cronaca che si riferisce a una tragedia che si è consumata nella giornata di ieri sera una tragedia tardi alle ore 20 e 30 un investimento un investimento con il treno a forse sei ore insomma tra Fano e Pesaro è successo ieri sera intorno alle 20 e 30 all'altezza del Mediterraneo il convoglio si era fermato circa un chilometro dopo l'impatto che cosa è accaduto è accaduto che una persona una persona ieri sera all'altezza appunto della linea ferroviaria nei pressi del locale Mediterraneo ha scavalcato le recinzioni è andata sui binari è andata contro il treno che in quel momento si tratta del regionale 42 e 52 proveniente da Ancona è andata incontro a questo treno e poi si è lasciato investire si tratta di un uomo un uomo che ha fatto tutto volontariamente si pensa che sia un sessantenne pesarese insomma poi le indagini ieri sera si è venuta tardi questa cosa e i giornali non hanno molti particolari in merito a questo brutto brutto incidente allora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico sul Corriere Adriatico vediamo subito la pagina di Fano e si parla di una iniziativa che viene organizzata dall'ambito sociale numero 6 l'ambito sociale numero 6 riunisce nove comuni tra costa e entroterra e si dedica soprattutto all'assistenza delle persone delle famiglie più fragili welfare la futura azienda al fianco del terzo settore se ne parlerà molto diffusamente e analiticamente sabato prossimo alle ore 10 al cinema Masetti come viene organizzato questo incontro è un incontro che verte sul tema di quanto l'ambito ha fatto negli ultimi tre anni tre anni e mezzo ci sono stati diversi cambiamenti per quanto riguarda l'assistenza sociale di famiglie e di persone in difficoltà sono cambiati i bisogni e sono cambiati di conseguenza anche le risposte che l'ambito sociale ha dato alle persone che hanno bisogno di assistenza e di aiuto soprattutto si è cercato di equilibrare i servizi che vengano forniti nella costa con quelli dell'entroterra l'entroterra prima aveva un divario un disequilibrio rispetto ai servizi che nelle città di più abitanti quindi di più fornite anche di risorse finanziarie venivano erogati ebbene si parlerà di quanto è stato fatto e di quello che si intende fare e soprattutto si parlerà di quanto è cambiato come dicevo prima l'assistenza sanitaria uno di questi elementi è quello della realizzazione delle reti territoriali ne sono state realizzate in questo anno sei reti e sono quelli che con l'aiuto del terzo settore ovvero del volontariato riesce a individualizzare i servizi alla persona per esempio con passamano si sta dando una risposta al bisogno alimentare poi con la comunità solidale ci si sta occupando dei senza fissa dimora fornendo un letto un pasto una doccia a chi non lo ha con dopo di noi si interviene nel settore della disabilità e poi con compiti insieme si dà un aiuto agli extracomunitari agli immigrati soprattutto per quanto riguarda la didattica e quindi l'insegnamento della lingua italiana e poi sei vicino sei vicino è un'iniziativa che riguarda gli anziani gli anziani che vivono soli e hanno bisogno di un aiuto per fare la spesa per andare a fare una visita medica insomma un aiuto per non sentirsi soli e per sopperire momenti di difficoltà infine abbiamo le altre le altre iniziative che insieme al terzo settore riescono a coinvolgere in modo uniforme e più equilibrato l'assistenza sociale del nostro territorio e qui abbiamo una notizia di cronaca a fondo pagina pensate un uomo che se la prende con la madre perché ha fatto del fritto e il fritto puzza non sopporta l'odore di fritto e picchia la madre un quarantenne patteggia due anni e un mese di carcere ed è la seconda condanna un temperamento irascibile che purtroppo faceva vittima la madre stessa e più volte la mamma è stata costretta a sopportare i maltrattamenti del figlio in questo caso non sopportiamo la puzza del fritto perciò le minarce di morte e le botte alla madre ieri c'è stato il patteggiamento l'uomo è comparso davanti al giudice l'avvocato in accordo con il PM ha proposto il patteggiamento a due anni e un mese pena confermata anche in virtù dell'aggravante della recidivia specifica a infra quinquennale quindi ci sono precedenti che hanno aggravato la posizione di questa persona e poi una bellissima iniziativa che coinvolge gli studenti del liceo classico i quali vengono coinvolti in un'azione didattica che prefigura uno sviluppo dopo la maturità nell'area medica alla università di medicina gli studenti del classico a scuola di ortopedia lezioni teoriche e pratiche sugli interventi chirurgici ebbene chi ha frequentato questi corsi ha una chance in più per poi superare gli esami per frequentare l'università di medicina e sappiamo quanto c'è bisogno di medici nel nostro territorio marciapiedi e due rotatorie più sicurezza sull'adriatica lo chiedono i residenti di Metauriglia vogliono veramente avere la sicurezza non bastano i multavelox gli autovelox scusate nel rettilineo a sud del fiume Metauro occorrono anche delle strutture fisiche per tutelare il transito di pedoni e ciclisti l'istanza dei residenti della frazione di Metauriglia protocollata in comune due rotatorie e i tanto attesi marciapiedi lungo il tratto della statale 16 a Metauriglia un pacchetto di opere che secondo i residenti sarebbe da finanziare con le compensazioni dell'adriatic link sì perché non solo Carrara ha bisogno di opere compensative dato che Carrara contiene ovviamente la centrale elettrica ed è il territorio più compromesso rispetto ai nuovi lavori ma anche Metauriglia dove l'elettrodotto sotterraneo poi si innesta in mare e quindi anche Metauriglia aspira avere opere compensative che Terna dovrebbe pagare in virtù appunto delle opere che si accinge a realizzare accoglie al metauro accoglie al metauro abbiamo un problema di droga a giudizio per la droga killer l'ultima telefonata al pusher artigiano stroncato da overdose a Borgaccio l'eroina ceduta da un nigeriano è l'articolo di cui abbiamo parlato a proposito del resto del Carlino lavori pubblici accelerati dagli sponsor privati a Fossombrone procedono i cantieri a Fossombrone per il giro d'Italia una bella opportunità questa per rimettere a posto le strade gli asfalti la viabilità insomma e ne parla l'assessore ai lavori pubblici Michele Chiarabilli giriamo la pagina troviamo la pagina di Senigallia e vediamo che c'è una proposta per rimettere in funzione l'ex hotel Marche fateci un albergo a 5 stelle Tassi della Confesercenti Alberto Tassi che è presidente dell'Asso Hotel della Confesercenti dice affidiamoci a catene austriache e tedesche abbiamo bisogno degli stranieri ebbene se uno si affida a catene austriache e tedesche sono queste proie che portano i turisti nel nostro territorio e quindi Senigallia avrebbe un filo diretto in modo particolare con l'Austria e con la Germania e poi qui invece abbiamo una denuncia che fa specie pensate un edificio dove c'è la sede degli uffici dei servizi sociali ebbene questo edificio non è frequentabile dai disabili sì perché c'è un gradino e le carrozzine non riescono ad entrarvi non possono entrare nella sede dei servizi sociali proprio coloro che ne hanno più bisogno uffici comunali off limits per i disabili bandiera lilla bleff via quel gradino il consigliere campanile incalza se il comune tiene al riconoscimento di questa bandiera che è un riconoscimento appunto per i comuni più virtuosi deve provvedere subito e qui abbiamo una foto di un disabile che cerca di entrare nell'edificio ma ovviamente non può perché c'è un gradino piuttosto alto e quindi non c'è niente da fare qualche notizia ancora su Pesaro sul Corriere Adriatico ma siamo in conclusione e quindi dobbiamo concludere la nostra rassegna stampa vi voglio segnalarvi soltanto che il mercato delle erbe sarà spostato quello di San Domenico a Palazzo Gradari è stato raggiunto un accordo e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto